ciao a tutti e benvenuti su azalea channel eccoci qua con un altro video della nuova espansione cani e gatti in cui vi mostro tutti gli oggetti che sono stati aggiunti con questa espansione come potete vedere già da questa panoramica sono veramente tantissimi questo è un lotto vuoto 40 per 30 che ho praticamente riempito e questi sono solo gli oggetti della modalità compra poi dopo vi faccio vedere anche quelli della modalità costruisci allora vediamoli velocemente l'ho già messi tutti fuori così li vediamo bene abbiamo come vedete dei nuovi letti questi singoli ovviamente sempre con tante fantasie colori diversi guardate che carini qui due nuovi letti matrimoniali che servivano perché secondo me erano pochi guardate questo che bello bellissimo lo adoro questo metterò sicuramente da qualche parte queste sono invece le cucciettine per per gli animali i lettini per gli animali diciamo eccoli qua anche in tanti colori diversi qui ci sono due ciotoline queste le ciotoline tipo quelle automatiche abbiamo dei tiragraffi e tipo il bastone qui i gatti si possono fare le unghie poi da questa parte ho messo delle le mensoline appese questa per poggiare le cose questa in cui ci sta praticamente appeso il guinzagli per i cani eccetera c'è questo poi mobiletto sempre espositore e vorrei farvi vedere piano piano sul muro potete trovare un sacco di quadri poster dipinti ne hanno messi veramente una marea vi faccio vedere velocemente allora partiamo da qua già che ci stiamo intanto vi faccio vedere guardate che carine le cassette della posta a forma di micio e a forma di cagnolino carine poi ci sono questi cartelli che possiamo trovare spazi per lo scenario qui c'è un nuovo caminetto guardate carino delle nuove tende in varie dimensioni e tante tante fantasie diverse guardate che carine queste bellissime queste sono tendine un po più piccole qui c'è un nuovo armadietto specchio per il bagno questi sono dei quadri guardate che belli questo enorme guardate che forza quadrucci un po più piccoli poster questi che sembrano molto per mettere alla clinica poi altri poster con il cagnolino il gattino poi di nuovo qua le mensoline di prima qui abbiamo un nuovo lavandino un nuovo water e qui tutte le lettiere per i gatti vedete qua e intanto vedete che bei poster questi sembrano tipo quelli pubblicitari qui ci sta il pesce i gamberi quindi sono molto da da molo no che è la nuova zona di brindleton bay guardate che carino c'è anche una nuova vasca da bagno poi questi dovrebbero essere macchinari relativi alla clinica veterinaria quindi non so esattamente cosa facciano ma lo scopriremo presto poi nel gameplay qui sempre altri poster sempre a tema marino qui abbiamo penso il banco di accettazione della clinica qui c'è un nuovo calendario guardate che carino con i gatti e con i cani qui un sacco di nuovi poster guardate anche questi mi sembrano molto a tema clinica veterinaria anche queste macchinette penso siano frigoriferi per metterci tipo le medicine le creazioni anche qua un'altra macchina relativa alla clinica quindi non so che cosa serva ma lo scopriremo qui il letto diciamo per poggiare gli animali e quando vengono da noi alla clinica questo dovrebbe essere lo strumento l'apparecchio per fare tipo le operazioni chirurgiche e poi qui ho appeso un sacco di decorazioni qui c'è questa bella pianta guardate qui quante decalcomanie c'è tantissime guardate queste sono tutte singole le potete mettere piazzare come più vi piace in alto in basso fare varie composizioni guardate che carine vi faccio vedere tutte ma sono tantissime cioè veramente guardate una marea e sono tutte molto belle questa è tipo l'insegna della clinica poi qua c'è un altro caminetto guardate che bello che c'è anche lo specchio qui di nuovo altre decorazioni questa è tipo la lastra per l'RX sempre da mettere nella clinica e altre qui insegne colorate e qui ci sta questa rete con questo timone queste bottiglie qua sempre un po' a tema marino poi torniamo un attimo lì che se no poi mi scordo di farvi vedere tutti gli oggetti allora abbiamo arrivati qua poi da questa parte ci sono nuovi cassettoni e comodini guardate che carini questi colorati c'è anche il cassettone più grande i comodini più piccoli questo è molto carino uno stile classico ed elegante ce lo vedo bene una camera da letto molto molto carino poi da questa parte abbiamo nuove sedie qui c'è tipo un po' già a piedi una sedia qui da bar quindi un po' più alta nuove sedie da pranzo guardate che carine sempre in varie fantasie questa di legno questo è il legno bianco ma ci sono ovviamente anche altri colori un sacco di poltrone nuove guardate qua che belle anche con varie fantasie sedie poltrona poltrona poi tornando qua abbiamo dei divani e i divani vi faccio vedere questo è carinissimo che è colorato molto carino questo che ha la spagliera alta poi abbiamo due nuove panchine quindi queste più da esterni e guardate questi che belli questi divani tipo ad angolo che stanno benissimo sotto le finestre sapete quelle sporgenze un po' delle case dove qui mi immagino dietro un muro pieno di finestre e qui sotto il divano cioè sono meravigliosi e ce ne sto ce ne sanno uno due eccolo qua un altro e tre di questi tipo qua cioè bellissimi stupendi proprio questo è un po' più da esterno perché c'ha il vaso con i fiori poi spostandoci di qua guardate c'è un nuovo acquario guardate che carino poi vabbè ci andranno i pesci dentro ovviamente qui abbiamo cose relative a penso ai gatti perché sono tipo cucette da gatto no? qui ci si possono fare le unghie qui sopra ci si possono mettere a dormire varie cucettine sempre in vari colori questa che è enorme tipo quei percorsi che possono fare i gatti saltare da un posto all'altro quindi anche quando uno ha più gatti in casa sono molto comodi anche questa è la stessa cosa sono un po' ingombranti però sono molto belli poi qua ci sono due nuovi peluscioni ovviamente uno a forma di cane e uno a forma di gatto guardate che carini poi qui abbiamo una nuova scrivania eccola qua un po' classica un nuovo mobiletto decorativo molto carino un altro mobilettino qui c'è un tavolino basso guardate queste due lampade da tavolo che carine questa più da esterno magari con la candela dentro questo tavolino un po' alto decorativo e guardate che carino questa è una lampada una lampadina con il faro che è uno dei simboli poi del nuovo quartiere di Brinleton Bay molto carina poi abbiamo un nuovo tavolo da pranzo semplice così di legno un altro tavolone grande c'entrano qua fino a otto persone un tavolino più piccolo tondo poi vediamo un po' qua abbiamo il trasportino e invece qua abbiamo qualche lampada questa da interni e questo ovviamente essendo un lampione è da esterno qui abbiamo delle nuove librerie guardate che carine sempre in vari legni questo penso sia un mobiletto si vedete si sta bene magari anche in bagno perché sembra che ci stanno dentro tutti gli asciugamani le ceste molto carino poi questi sono due tavoli da esterno uno senza ombrellone e uno con l'ombellone infatti cambia anche il colore qui abbiamo altre piantine guardate che carine e qui un sacco di decorazioni nuove nella forma di gattino qui altre statuine di gatto di cane molto carine qui c'è la roba da mangiare per i cani un sacco di scatoline per il cibo qui c'è una cosa vedo una siringa un martelletto sono cose sempre per la clinica quindi tante nuove decorazioni per gli animali ovviamente queste sono decorazioni da esterno perché sono enorme c'è il timone un basamento ah questa invece è una valigia con un sacco di libri guardate qui quanti nuovi tappeti c'è questo fatto di giornali poi questi qua con le impronte degli animali tutti questi tappetini guardate che carini tanti colori diversi questo a forma di osso e poi questo che dice qui vi è dato il passaggio ai cani in pratica ai gatti e qui al contrario invece sempre colori così eccoli qua guardate poi questo che carino tutto tondo e colorato carinissimo eccoli qua vedete ce ne stanno veramente una marea di tappeti tanti tanti cioè questo e questo sono praticamente i miei preferiti cioè li metto sicuramente da qualche parte perché mi piacciono tantissimo eccoli qua e questi altri quindi veramente un sacco di tappeti ah e poi c'è questo enorme qua al centro poi invece questi cosi questi tubi immagino che siano quegli strumenti per fare il percorso ai cani per addestrarli quindi che entrano nei tubi qui ci sono anche i cerchietti per farli saltare qui ci sta quel coso che serve per fargli fare lo slalom lo scivoletto qui sopra non so che cosa serve ma lo scopriremo qui ci sono un po' di giochini per cani e gatti vedete le palline il topino il bastoncino per farli giocare qui penso che siano delle scatole che dentro ci sono dei giocattolini per animali non ne sono sicura ma credo di sì qui invece abbiamo altri oggetti decorativi guardate che carino questo mobiletto ad angolo in cui ci stanno tutte queste decorazioni qua cioè carinissimo mancava una cosa del genere qui abbiamo un gran mobile decorativo con tutti i piatti sopra guardate che bello e qua c'è un altro sempre mobiletto decorativo eccolo qui poi questi scatoloni enormi sono roba che tipo si troverà al porto sapete quando sono piazzate tutte quelle casse così sparse in giro per lo scenario e poi qui ci sono dei nuovi chioschetti questo è un bagno nuovo mentre questi sono dei chioschi nuovi che non so cosa vendono questo sicuramente questi due il pesce venderanno quindi staranno al molo e questo non lo so poi andremo a vedere poi qui ci sono dei nuovi cartelli eccoli qua possiamo mettere per i negozi per la clinica in varie parti diciamo dello scenario eccetera e mi sembra che abbiamo visto ah ecco no aspettate guardate questo che carino cioè praticamente è la parte dello scenario di Brilleton Bay l'isoletta dove c'è il faro cioè la riproduzione in miniatura guardate che bella questa è veramente carinissima e poi qui c'è questa grande roccia con l'ancora è tutto molto a tema marino come infatti il nuovo scenario starà appunto sul mare allora mi sembra che occhio vi ho fatto vedere un po' tutti i nuovi oggetti sì spero di non essermene dimenticata nessuno adesso vediamo se ci sta qualcosa di nuovo nella modalità costruisci quindi vediamo magari nuove porte finestre carta da parati pavimenti eccetera ecco qui allora queste sono tutte le nuove porte aggiunte guardate un po' che carine sempre in tanti colori diversi questa che ha il vetro davanti questa guardate che carina sembra la porta per la clinica veterinaria perché c'è il gattino cagnolino con lo stetoscopio guardate che carina questa è una porta bella grande doppia anche questa molto elegante e poi guardate qui queste tre sono le porticine piccoline in cui possono passare solo gli animali qui penso solo i gatti o comunque i cani di taglia piccola e questo è un po' più grande per i cani di taglia grande poi abbiamo varie finestrelle queste piccoline questa grande che dà proprio fuori cioè non c'è neanche il vetro quindi vuota aperta questa qui a semi a semicerchio altre finestrelle questa tonda un blò questa grande tutta la parete queste qua a tre insieme di varia grandezza poi ovviamente le potete posizionare più in alto o più in basso come volete questa qua bella grande questa che ha una composizione di varie finestre poi qui ci stanno alcune decorazioni per esterno tipo da mettere sotto i tetti delle piccole tettoie nuove e qui c'è anche un nuovo recinto con il cancelletto associato questo qua con l'arco sopra grande poi queste sono le nuove carte da paradi eccole qua queste per interni e queste invece più per esterni eccole qua le faccio vedere rapidamente qui c'è una lucetta appesa al muro che prima non vi avevo fatto vedere che mi era sfuggita e questi sono invece due nuovi pavimenti poi ovviamente vedete che sempre per le carte da parati pavimenti eccetera ci sono i vari colori le varie tonalità ok direi che a questo punto abbiamo visto un po' tutti gli oggetti nuovi sia in modalità compra che in modalità costruisci devo dire che sono veramente tanti e molto carini ovviamente tutti a tema animali non vedo l'ora di usarli nelle case quindi per quanto riguarda i sim che uso nella serie principale dei sim 4 ci saranno pian piano dei rinnovi nelle loro case aggiungiamo alcuni di questi nuovi oggetti e allora direi che con questo video ci fermiamo qui e abbiamo finito la serie di video in cui abbiamo visto appunto il cast e gli oggetti la prossima volta iniziamo a vedere il gameplay vero e proprio di questa espansione finalmente perché io non vedo l'ora di giocarci e di farlo anche insieme a voi perché io ancora non ho visto la modalità vivi quindi sono curiosissima di provarla con voi e volevo appunto iniziare come vi ho detto nel primo video del cast volevo iniziare questa mini serie concentrata sull'espansione cani e gatti ho già qualche idea in mente ma ve la svelo quando comincerà la serie che spero sarà a breve quindi con questo video ci fermiamo qui fatemi sapere se vi è piaciuto se vi sono piaciuti tutti i nuovi oggetti cosa ne pensate di questa espansione e noi ci vediamo prestissimo con i prossimi video ciao ciao